Se ci racconta in che termini è avvenuta questa discussione? Certo, allora io al momento che ho fatto questa richiesta di amministrazione di sostegno sapevo che sarebbe stato un taglio, per questo che ho aspettato, se no l'avrei fatta molto prima, ma però perché so che mia madre per lei era un attacco personale a lei, cosa che non è assolutamente vera. Io volevo che ci fosse una persona, super partes, cioè al di sopra di tutto, che controllasse che la gestione dei soldi di mia madre fossero fatti bene, questo è il discorso, per cui ho avviato questa azione di amministrazione di sostegno. Io glielo ho spiegato a mia madre, ho cercato di spiegarglielo, finalmente poco prima di un'udienza eccetera eccetera, mia madre mi ha fatto venire a casa ed era stata la prima volta che io mettevo piede o che la vedevo. Mi sembra che spieghi molto, no non mi sembra che spieghi molto e spieghi perché è ritenuto necessario appunto affidare la madre a un istituto che comunque, ora a parte a prescindere da quello che dice in gioia, l'avvocato in groia, cioè comunque desta un po' di perplessità, non solo in questo singolo caso Eleonora, ma come dicevi tu, in generale, no? Quando questi anziani vengono messi sotto tutela appunto, chi lo decide, quali sono, qual è la prassi, questa prassi è molto discrezionale, qui tu chiedevi una riflessione politica, perdonami, la riflessione politica non può essere che quella sulla responsabilità dei giudici. Secondo Rigao, è un dibattito annoso, purtroppo la discrezionalità dei giudici c'è. Secondo Rigao, nel processo a carico di Piazzolla, per 5 convenzioni incapace, in udienza il 27 aprile scorso, secondo Rigao, Gina era molto influenzata, non solo da Piazzolla, sulla questione dei soldi. Sentite, anche da, dice Rigao, era influenzata da Piazzolla e anche dalla madre di Piazzolla. Quando lei c'era, non le è parso strano che questi due signori, madre e figlio, dessero consigli alla signora Lollobrigida su cosa fare dei gioielli, su cosa, quali persone licenziare, quali persone assumere e non ha chiesto una spiegazione alla signora, a sua moglie? Signor giudice, non mi sembrava strano, mi sembrava stranissimo. Io ho parlato con Gina fino a un certo limite, perché è un'altra donna, non si può ragionare. Se Piazzolla le dice, ho visto una vacca azzurra volando, lei mi dice, ho visto una vacca azzurra volando. Tu lo hai visto, Gina? No, ma me lo ha detto Piazzolla, parola di Dio. Il controllo su di Gina non è solo del Piazzolla, perché ho visto che anche della sua madre...